bassi della nostra realtà. Attenzione adesso a Oliver Reghi, capace di cose incredibili al cavallo a maniglie. Amor si ha presentato un esercizio stupendo. Lining, forbice in appoggio rovesciato. Un'altra volta di rara eleganza. Ottime linee. Buonissima tenuta. Camminata in avanti, camminata indietro. Sono elementi davvero di notevole spessore. Sale in appoggio rovesciato. È il migliore di quello che ti aspetti sempre, che ogni tanto dà e ogni tanto invece prende. Per fortuna che però in questo secondo esercizio davvero le cose sono andate bene. Anche perché siamo chiaramente contenti di ritrovarli nel secondo round. Ma la strada è comunque in salita perché non si ripara.